molto essenziale per lasciare l'estate ma anche per dire, non sono sveglioso, che il nostro territorio offre non solo quelle che avete in vostro istante, ma anche anche la città di questo concetto di andare in questo territorio, che ti ringrazio a tutti per dare la testimonianza di un pubblico che credo sia tanto una risposta positiva e un'amogliezza a loro, non penso di questo, siamo contenti, siamo contenti, siamo contenti, grazie e scendo con l'ultima parola, un genere di appunto a non programmare a tempo debito, stiamo avanti grazie